Siamo al Castello Brancaleoni di Piobbico, dove da questa mattina ci sono state riprese di Sereno Variabile. Abbiamo ospitato le truppe della RAI per girare delle scene che andranno in onda il 5 di gennaio alle 17. Siamo partiti dalla Slocanda, che è un agriturismo alle pendici del Nerone, gestito da due ragazzi che quattro anni fa hanno fatto una scelta di vita. Si sono trasferiti in questo borgo e loro con i bimbi hanno un agriturismo, due camere, una fattoria con animali, capre, asini, hanno il loro orto e ospitano gente offrendo i loro prodotti. Ci siamo trasferiti poi al Castello Brancaleoni, dove ci aspettava Mario Mariani, musicista, pianista pesarese, trasferitosi a Piobbico ormai da sette anni. Anche lui ha spiegato questa scelta di venire nell'entroterra e la scelta proprio di questo ambiente naturale, non contaminato, estremamente tranquillo, dove la qualità della vita è ancora molto alta. Poi abbiamo fatto un'intervista a Loretta Stella, che è la maga delle erbe, che ci ha raccontato di tutte le erbe del Monte Nerone, delle proprietà a livello medicinale, terapeutico e dell'utilizzo in cucina. E non per ultimo anche l'utilizzo delle piante tintore. Infatti poi siamo nel museo della tessitura, dove abbiamo dei telai datati 1800 e abbiamo avuto una dimostrazione di tessitura a mano, perché ancora in paese fortunatamente abbiamo persone che testano tappeti a mano. Questo è stato un artigianato fondamentale negli anni dell'800 e nel 900, perché era la prima fonte di sostentamento, quindi un'economia importante per Piobbico. La principale pianta era il guado, che dava un colore azzurro, era molto coltivata nel 500. Poi Piobbico, il club dei brutti. Giannino, il nuovo presidente, ha spiegato a Svaldo qual è il senso del club e la volontà di far capire ai brutti che hanno in realtà tantissime chance. E hanno spiegato anche questo motto principe del club. La bellezza è schiavitù, la bruttezza è una virtù. Poi logicamente abbiamo presentato il nostro polentone alla carbonara, che adesso credo stiano gustando, e quelli della troupe. Questo comunque cade in concomitanza anche con le festività natalizie, quindi è un modo anche per augurare a tutti i nostri cittadini e a tutti quelli che avranno modo di vedere il servizio buone feste per un sereno Natale e un felicissimo e anche fortunato, speriamo, 2013.